Sono il fondatore del progetto del camminato delle studentesse delle Sputzer e siamo qui per un casting a Cadermar dove proveremo a vedere... Questa stupenda location marina, spettacolare, che si è che abbraccia in maniera di buono. Siamo qua a Massaluprense, veramente un posto meraviglioso. Qui c'è la bellezza, la terra delle silenze, non potevano mancare le silenze. Assolutamente. Questo canellario quando verrà? A fine anno, intanto oggi, che è la prima tappa dell'anno, il femminico è che ho Miss Massaluprense, Miss Cadermar, Miss Miss Produzioni che è un produttore, un attore amico che oggi è presente. Va benissimo, grazie. Allora ci resta di curarci una bella e una bellezza. E questo è la bellezza. Grazie a tutti.